Expo 2015, Opera IT, la piattaforma di educazione musicale di Aslico, teatro sociale di Como, produce un'opera thriller, presentata oggi al Piccolo Teatro Strider di Milano. Una giovane poliziotta appassionata di lirica indaga su una serie di delitti. Sei donne, assai diverse tra loro, uccise da qualcuno che firma ciascun omicidio con indizi legati a loro volta al mondo dell'opera e al cibo, tema del prossimo Expo. E' E tu mi mi che vuoi, uno spettacolo destinato alle scuole superiori di Opera Education, l'attività di promozione della lirica messa in piedi da Aslico, l'associazione fondata nel 49 che non vuole solo formare giovani cantanti e tecnici, ma anche il pubblico di una parte così importante del nostro patrimonio culturale. Il pubblico che poi viene a vedere lo spettacolo in realtà è preparato, nel senso preparato in maniera facile, divertente, anche spesso giocosa, è preparato a scuola ma non solo anche in famiglia, ma anche su internet, quindi molto e-learning, ed è preparato in maniera molto polivalente, molto multidisciplinare come l'opera è. Il testo dello spettacolo è di una giovane autrice, una degli sceneggiatori di Dylan Dogg. Nelle varie opere ha delle valenze molto simboliche, in certi casi è gaudente, gioioso, è portatore di vita, in altri è portatore di morte, di violenza, è un simbolo quasi di distruzione. Il progetto Opera Expo, che ha appena ricevuto un importante riconoscimento a Parigi, premio a Fedora, 150.000 euro, andrà in tournée in tutta la Lombardia, a Vicenza e a Roma, per tornare a Milano al Teatro di Ringhiera a maggio.